Buongiorno a tutti, come vedete dal satellite, una parte dell'Europa in Mediterranea è sgombra da nubi, mentre delle nubi in quota, alcuni fronti, scendono da nord-ovest verso le Alpi e portano un po' di nuvolosità sul nord Italia e anche sulla nostra regione. Nei prossimi giorni la prevalenza sarà comunque di corretti da nord-ovest in quota, mentre la pressione al suolo vedrà un allontanarsi della depressione verso est e un ricongiungimento dell'anticiclone dell'Azore con l'anticiclone del nord Europa. Questo porterà tempo abbastanza buono, direi, sulla nostra regione. Il cielo per domani sarà prevalentemente in genere poco nuvoloso, forse ha maggiori variabilità sulla zona montana e sulle zone orientali, mentre sulle portonesi probabilmente avremo un po' più di sole. Le temperature saranno ancora fresche al mattino con minimi sotto i 10 gradi, massimi come vediamo sotto i 20 gradi. Anche per domenica variabilità, forse una maggiore alternanza di sole e di nubi, con più nubi nel pomeriggio, un po' di bora probabilmente al mattino e forse qualche foschia nel Pordenonese in pianura verso sera. Le temperature dovrebbero rimanere prevalentemente uniformi con il giorno precedente. Per lunedì probabilmente si approfondirà una depressione sul Tirreno, richiamerà bora, bora che potrebbe essere anche sostenuta nella giornata di lunedì a Trieste, un po' di vento nord-est anche su pianura e costa. Il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, con maggiore copertura in montagna, in particolare, come sempre nel Tarvisiano in questi casi le minime dovrebbero salire di un grado 2, mentre le massime potrebbero calare appunto di un paio di gradi. È tutto, buon fin di settimana!